Nel libro degli atti degli apostoli abbiamo una bella pagina programmatica della Chiesa nascente. Erano assidui nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli e nell'unione fraterna nella frazione del pane e nelle preghiere. Dio in effetti non abbandona mai le sue creature, i suoi figli. Sono santi o sono peccatori, sono sempre figli suoi e non li abbandona mai. E quindi allora la Chiesa nascente si prospetta come in ascolto, in ascolta dell'insegnamento degli apostoli. Si presenta nell'unione fraterna. Per la costruzione del regno è necessario rifiutare la dinamica della torre di Babele dove ognuno cerca di fare i propri interessi. Unione fraterna, frazione del pane. Anticamente presso gli ebrei il papà prendeva il pane, lo spezzava e lo distribuiva. È questo che ha fatto la Chiesa per tanti secoli in Gesù Cristo. Gesù nell'ultimo cena prende il pane, lo spezza e lo dona. Ogni giorno nella Santa Messa i sacerdoti in nome di Cristo e con Cristo spezzi il pane e lo distribuisce. Nella sua predicazione Gesù presenta le caratteristiche della nuova comunità, della Chiesa. Una comunità di accoglienza e di perdono. È fondamentale questo. L'accoglienza e il perdono. Perdono verso chi? Perdono anche verso chi sbaglia. Non possiamo mettere alla porta chi ha sbagliato. Attenzione al più piccolo, al debole, al malato. Andare in cerca della pecorella smarrita, dello svantato, del peccatore. Fare ogni tentativo per stabilire la comunione fraterna, comunione di preghiera. Per donare sempre. Condizione per essere perdonati. La Chiesa una realtà visibile e spirituale. Tutti i membri della Chiesa credono tutte le stesse cose, le verità. Si accostano al medesimo altare. Ispirano le proprie azioni agli stessi principi morali. La Chiesa è una. Una nella fede. Una nella comunione. Quello che crede il battezzato italiano lo crede l'africano, lo crede l'intiano. La Chiesa è santa. È santa nel fondatore. Nella sagra scrittura. Nel fine che si propone del purificare la propria esistenza terreno per andare al cielo. La Chiesa è cattolica. Il ministero degli apostoli è la continuazione di quella che ha iniziato Gesù sulla terra. I sacerdoti non devono fare altro che continuare l'opera di Cristo. E bisogna anche dei momenti in cui c'è un appannamento magari nel completare nello spirito di santità di vita il progetto di Cristo. È vero. Però è anche vero che anche coloro che sbagliano e possono essere anche sacerdoti sono sempre assistiti dallo Spirito Santo e sono amati da Dio e quindi accettati come figli prodigi.